Firenze, 6 maggio 2020, confermo che ho appena parlato con l'ambasciata del Catara a Roma e dovrò telefonare tra qualche ora e parlare con una persona vicina all'Emiro Altani. Come ho detto ieri al capo della Digo Spifferi, informerò personalmente il console al Catara di tutta questa situazione relativa alla Materolbia, perché qui se c'è qualcuno che ha fatto reati, non sono certo io, ma sono loro e mi riferisco a un certo giro della politica. L'Emiro Altani lo avviserò attraverso il suo consolo, come ogni buon cittadino dovrebbe fare. Poi si muoverà, non si muoverà a sua altezza, questo non mi interessa, sta di fatto che come ho detto ieri al capo della squadra mobile Pifferi, io mi muoverò in altre situazioni, perché io voglio solo una cosa, voglio la verità e voglio la giustizia, perché qui è l'ora che a Firenze si smetta di parare il culo a Renzi, Nardello e Carrai, perché qui le perquisizioni non devono venirle a farle a me, ma devono andare da loro, perché chi ha rubato, chi ha fatto reati nel corso degli anni non sono certo io, ma sono loro. Quindi la musica deve cambiare, deve cambiare assolutamente, perché qui non si scherza più e non scherzo più. Io mi sono veramente stancato di vedere una giustizia, una magistratura che non indaga perché ha paura o perché dietro c'è altre situazioni. Ora è l'ora di falla finita, visto che la Materolbia è una situazione che potrebbe scatenare un cassino a livello internazionale, io farò anche questo, avviserò chi di dovere che è stato truffato, lo saprà, non lo saprà, non mi interessa, io voglio che Renzi, Nardello e Carrai siano messi davanti alle sue responsabilità. Basta protezione a Firenze, basta protezione a Firenze, è chiaro PM Luca Turco, è chiaro procuratore Capo Creazzo, è chiaro o no?